Se io farà il futuro non è tranquillo, se posso essere tranquillo, un po' di risposta. Se io farò il futuro non è tranquillo, se posso fare una recuperazione senza posto, tranquillo, 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 il tiro a farlo, è tutto a posto, il formatore, il cielo. A posto e se il cielo si è allontiato, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Ora ti c'è fatto, tranquillo, 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 tranquillo. Ora ti c'è fatto, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Se io farò spiegare, ti c'è fatto, la famiglia non lo hanno, è tutto, tranquillo, tranquillo. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!